È una sensazione bella, solo chi è che è giuliese, chi è che vive e ha indossato questa maglia da sempre può capire, è un'emozione forte, è un'emozione che sinceramente è una scommessa che ho voluto fare perché conoscendo il gruppo, conoscendo la qualità e la compattezza di questa squadra non ci ho pensato minimamente due volte prima di accettare il tutto. In sé per sé già il derby è una partita a parte, in più è una finale, una partita dove come ho detto ai ragazzi non ci sono tatticismi, non ci sono i giochi tecniche, è soltanto una partita dove ci si deve mettere il cervello, il cuore, il carattere, gli attributi, ma non è solo perché deve essere sempre così per noi, se vogliamo fare qualcosa di importante, io credo che possiamo fare qualcosa di importante perché dal mio punto di vista questa è una squadra forte, forse ha perso un po' di credibilità, ma questa è una squadra forte. Un'altra cosa che non dobbiamo pensare è a fare, pensare al teramo, cioè nel senso noi dobbiamo pensare a noi, dobbiamo pensare a noi e dobbiamo prendere e ritrovare una nostra identità, poi è normale che se loro sono bravi, mantengono questo ritmo, questo rendimento, tanto di cappello dal teramo, ma noi non possiamo, dobbiamo pensare a noi e dobbiamo vedere quello che dobbiamo e sappiamo fare. Sicuramente sarà un Giulianova con grande carattere, grande voglia, grande cattiveria agonistica, cioè uscire con la maglia sudata dopo ogni gara deve essere quello, ma non solo ogni gara, ogni allenamento.